Avanti, si accendono i lumi nelle sale della mia reggia. Signori, a principio la vendita delle mie idee. Avanti, chi le vuole? Idee originali e a prezzi normali. Io vendo perché voglio raggomitolarmi al sole, come un gatto a dormire fino alla consumazione dei secoli. Avanti, l'occasione è favorevole, signori. Non ve ne andate, non ve ne andate, vendo a così poco prezzo. Diventerete celebri con pochi denari. Pensate, l'occasione è favorevole. Non si ripeterà, oh, non abbiate timore di offendermi con un'offerta irrisoria che mi importa della gloria. E non badate, Dio mio, non badate troppo alla mia voce piangevole.